Un po' in ritardo, questo è vero, ma non è colpa mia. Diciamo che la Juventus mi ha fatto dannare abbastanza oggi. Alle 19 ero qui, pronto, a cercare la conferenza stampa e non la trovavo da nessuna parte. Allora ho iniziato a cercare un po' di informazioni, ho visto che la Juve era atterrata con un po' di ritardo probabilmente in Francia e poi continuava a non arrivare, non arrivare, non arrivare. La conferenza è stata spostata alle 19.45, non era ancora iniziata nemmeno a quell'ora e dato che avevo allenamento ho deciso di rinviare. Ovviamente è tempo di scendere le scale, arrivare in macchina e trovo il posto su Twitter. Iniziata la conferenza stampa di ministro Allegri, Manolo Catarina Vigile di Nanti Juventus, perfetto, perché mi prendono sempre in giro, poi io fisicamente sono un misto tra Pogba e Chiesa, quindi anche ad allenamento ho avuto qualche problemino. Va bene, ora sono tornato a casa e non sono stato in grado di trovare da nessuna parte, quindi ce la leggiamo in diretta, non l'ho ancora letta, nemmeno io, l'unica cosa che ho trovato fa riferimento al profilo Instagram, anzi Twitter ufficiale, della Juventus dove abbiamo tutta la conferenza stampa scritta. Spulciando un po' nei commenti sto vedendo diverse persone arrabbiate perché comunque nemmeno su JTV è a disposizione questa conferenza stampa e quindi mi viene da pensare che non sia proprio stata divulgata. Quindi oggi non possiamo fare il classico commento che facciamo sempre, possiamo soltanto leggere dei caratteri che sono privi di emozioni ovviamente e pensare e sperare che siano stati riportati fedelmente. Domani ovviamente ci sarà la partita, domani ci troviamo in live su Twitch per cercare di fare il punto della situazione con la live reaction e oggi parleremo anche della probabile formazione così che qualcuno magari potrà vedere questo video domani mattina, dato che uscirà comunque la sera abbastanza tardi post partite di Champions che per forza di cose, per causa di forza maggiore questa volta non ho visto quindi non potremo commentare. Direi di non perdere altro tempo, andiamo su Twitter e appunto Allegri e Locatelli. Locatelli, mi sentivo un giocatore della Juve dal momento in cui ho firmato, io cerco sempre di dare il mio meglio, a volte di dare l'esempio, abbiamo tanti leader in squadra. È un discorso interessante quello dei leader perché tante volte abbiamo tirato fuori questo discorso, io non so quanti leader effettivamente ci siano all'interno della Juventus, credo che anche il cambio di fascia come vice capitano perché sono stati scavalcati Quadrado, Alexandro e Scesni come girarchia stabilita dallo stesso Massimiliano Allegri e ora il capitano vero e proprio ovviamente Bonucci, il vice capitano è Danilo e diventa il capitano vero e proprio perché Bonucci comunque in questo momento non è in grado di giocare. Secondo me ci sono leader tecnici come Di Maria, leader silenziosi come può essere Scesni, però leader veri e propri oltre a Bonucci e lo stesso Danilo non so quanti possano essere effettivamente, quindi sarebbe un discorso interessante da approfondire magari con i diretti interessati tra qualche anno quando finiranno loro avventure a Juventus perché adesso è impossibile parlare di queste cose. Tra l'altro la conferenza inizia alle 7.47, come potete vedere a questo tweet e alle 8.00 era già terminata con le domande sia per Chiesa, sia per Locatelli che per Allegri, quindi diciamo che non è stata una conferenza particolarmente ricca, mettiamo mi piace a questo post della Juventus. Locatelli, l'atmosfera di questo stadio è bella perché queste sono le partite belle da giocare, credo che ci darà la carica per dare il nostro meglio. Le partite belle da giocare è una frase proprio di Allegri, tipica di Allegri, queste sono le partite belle da giocare. All'Allianz il loro pubblico è stato molto caldo, decisamente caldo, anche nel post partita sono stati molto 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 presenti, diciamo così, quindi domani mi aspetto veramente un piccolo inferno in miniatura formato Europa League e non dovremmo essere bravi anche a ignorare questi fattori esterni che possono voler dire tanto. L'ultima volta che abbiamo giocato in uno stadio particolarmente complicato è stato al Maradona di Napoli, non è finita proprio benissimo. E sono già finite le domande per Locatelli, e già questo ci fa capire che probabilmente ci sono stati dei problemi di tempistiche legate alla conferenza stampa e quindi non si è andati troppo nel dettaglio. Allegri, sapevamo che Chiesa avrebbe potuto mostrare qualche acciacco dopo essere rimasto fermo dieci mesi ad aver giocato due partite di fila. Vabbè, questo fa parte del gioco, però l'altro giorno era un affaticamento. Oggi leggiamo è un acciacco, mi piacerebbe capire effettivamente che cosa succede a Chiesa in questo momento. È un infortunio? È un affaticamento? È un acciacco? Che cosa ha esattamente Federico Chiesa? Perché dopo tot mesi di Pogba che con il menisco sta litigando, Chiesa che era tornato, beh, speravo potesse aver finito una sorta di calvario, sembrava star bene anche fisicamente. Forse l'Alega anche Gufata dicendo Chiesa sta recuperando bene da una partita all'altra. Eccoci qua, Anant senza Federico Chiesa. Peccato, gran peccato. Allegri, senza Chiesa non giocheremo con i tre davanti, anche considerando che la prospettiva dei 120 minuti dovremo ottenere cambi con diverse caratteristiche. Ora, senza Chiesa, senza Pogba, senza Milik, senza Miretti, io non so quanti esattamente cambi avremo, anche con caratteristiche differenti. La formazione, cerchiamo di fare il focus della probabile formazione perché dovrebbe essere Chiesa in porta, i tre brasiliani dietro, Alexandro Bremer e Danilo, quindi difesa a tre, cinque a centrocampo, Kostic a sinistra, Locatelli, Rabiot e Fagioli in mezzo al campo, a destra uno tra De Sciglio e Quadrado e davanti Milik, anzi se è Milik, Vlaovic e Di Maria. Quindi questo dovrebbe essere, immagino che i sostituti saranno Paredes, Barrenecea che è stato convocato, l'altro tra De Sciglio e Quadrado, Rugani, Gatti, Ken sulle Ealing e poco altro, Perin, Pinsoglio, quindi cambi con caratteristiche differenti. Oioi, oioi, quindi vediamo anche un attimino come andrà questa storia. Quadrado sta meglio rispetto alla partita di Spezia, non ho ancora deciso se sarà lui o De Sciglio a partire domani, io i miei due euro li metto su De Sciglio, non mi aspetto Quadrado e Titolare, anche in relazione a quello che ha detto Allegri sui cambi con caratteristiche diverse e dopo aver visto il cambio al 45esimo da parte di Allegri nei confronti di Quadrado, non mi aspetto Quadrado e Titolare, vediamo se sarà così oppure no. Sappiamo bene dell'atmosfera che troveremo domani allo stadio, dovremo essere bravi a gestire la prima parte di gara, no mister, attenzione, io credo che dovremo essere bravi a gestire tutta la gara, perché la prima parte di gara l'abbiamo gestita bene secondo me anche all'andata, poi c'è scivolata via un po' tutta, non voglio stare a tornare sul discorso del chiudere partite, del cercare di giocarle aumentando i giri del motore anche sull'1-0, questi sono discorsi che abbiamo già fatto tante volte, è un discorso che ha fatto anche Allegri nelle ultime conferenze, dispiace appunto non aver sentito quella di oggi per capire anche un po' il tono della voce con cui si dicano certe cose, secondo me non dovremo essere bravi a gestire la prima parte di gara, dovremo essere bravi a gestirla tutta, perché senza troppi giri di parole domani non si può rischiare di uscire, domani bisogna passare il turno. non passare il turno a Nantes sarebbe una delusione troppo grande all'interno di una stagione europea con fin troppe delusioni, quindi cerchiamo di fare il nostro dovere che anche con questi assenti nei confronti di questa squadra che andiamo ad affrontare non possiamo assolutamente rischiare una figuraccia di questo tipo, assolutamente no. indipendentemente dalle qualità tecniche che ha, altrimenti non sarebbe la Juve, Locatelli ha quelle caratteristiche morali, quel DNA specifico che gli permetterà di rimanere la Juve tanti anni. Questo è un discorso un po' particolare perché a inizio anno Allegri nella sua Juve virtuale, quando ancora sconcerti era tra noi ed era stata rilasciata quell'intervista, Allegri vedeva Paredes davanti alla difesa, Pogba e Rabiot mezzeali con Locatelli primo cambio, ora un po' divertito il mondo, infatti anche Allegri all'interno di un'intervista da Zon insieme a Barzagli parlava proprio di Locatelli e andava a dire potrebbe essere uno dei futuri capitani della Juventus, quindi oggi Locatelli è indispensabile alla Juventus perché Paredes che era l'acquisto fatto proprio in quella posizione di campo per cercare l'upgrade o cercare di spostare Locatelli e liberare alcuni compiti difensivi non si è rivelato all'altezza e quindi oggi per Allegri Locatelli è indispensabile, è fondamentale, quindi è giusto e logico che vengano spese buone parole nei suoi confronti e anche averlo in conferenza stampa prima di una partita terminazione diretta non è male, assolutamente non è male. Mi sono reso conto che non ho letto una domanda perché poi abbiamo già terminato la conferenza, è Allegri che dice la Juve l'obiettivo di superare il turno visto che negli ultimi tre anni è uscita agli ottavi, domani giochiamo una partita difficile in casa loro che dobbiamo vincere senza fare calcoli, è vero non bisogna fare calcoli, è vero è una partita da vincere, è vero la Juventus in ultimi tre anni non è mai andata agli ottavi, è bene ricordare però che questo non è un ottavo di Champions League, quindi la Juventus domani potrebbe andare agli ottavi di Europa League e la Juventus domani deve andare agli ottavi di Europa League, quindi ricapitolando, la formazione è la beandetta, probabile formazione, non mi aspetto niente di diverso, dovrebbe essere 3-5-2 o per meglio dire 3-5-1-1 con Di Maria che va a girare un po' tra le linee, va a disturbare i difensori avversari, i centrocampisti avversari, va a inventare, si abbassa, va a prendere il pallone e con Vlaovic che avrà la libertà di poter giocare in profondità sul filo del fuorigioco come piace fare a lui, quindi vediamo se la formazione sarà questa, leggendo anche i convocati, credo che sia difficile inventarsi qualcosa di diverso, fatemi sapere le vostre considerazioni su una scarsissima e piccolissima, ristrettissima conferenza stampa, chiedo ancora scusa per il ritardo, non è di piso da me, la Juventus forse è arrivata con un po' di ritardo in Francia, è questo, è il prezzo da pagare.